La campagna dedicata dalla TGR alla sicurezza sul lavoro, in aumento gli infortuni mortali come documenta l'ultimo rapporto della UIL. Sentiamo per tutti i particolari Maria Luigia e Stefano. 23 decessi ogni 10.000 infortuni e questo è il dato drammatico che colloca il Lazio al primo posto per numero di morti sul lavoro. Un primato che la regione fa fatica a perdere con ulteriore incremento dell'1,1% di incidenti sul lavoro da un anno all'altro. Nel dettaglio la provincia di Rieti a guidare la classifica, seguita a distanza da Roma, va meglio nel Biterbese dove si registra un calo degli incidenti mortali. Dati questi che rappresentano un'inversione di rotta rispetto alla contrazione che era stata registrata nel periodo 2012-2015 e che non tengono conto degli infortuni dei tantissimi lavoratori in nero. E' impressionante anche nel Lazio l'incremento delle malattie professionali. Occorre ripristinare legalità, occorre ripristinare la tutela dei lavoratori, occorre occuparci di sicurezza insieme a comune, regione e rimettere in piedi una legislazione idonea e controlli adeguati. Altrimenti questo fenomeno non lo salviamo. Mentre i dati di quest'anno e quelli del 2017 sono ancora parziali, quelli dell'anno precedente, il 2016, parlano chiaro. Sono stati oltre 45.000 gli infortuni sul lavoro denunciati, la maggior parte dei quali a Roma, una cifra che rappresenta il 7,1% del totale nazionale. Di questi il 35% riguarda le donne, ben 104 quelli con esito mortale.